Forza Lazio! Esordio con doppietta Stiamo parlando di Beppe Signori Mauro Zarate Uno contro la Sampa a Genova L'altro a Cagliari Due storie che si sono sviluppate poi in maniera differente Ma che ebbero però lo stesso inizio da sogno Ora, volevamo chiedervi C'è qualche esordio particolare che ci ha scappato E che invece voi ricordate con particolare piacere? Mi raccomando, ditecelo, fatecelo sapere Scrivete un commento In chiusura, vi ricordo che dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale YouTube Qui stiamo parlando e vi saluta Ciao!